Oscar alla lezione si intitola così il nuovo film di Degani e Wetzel, un film che ha molto di spezzino. Sì, ha molto di spezzino perché le riprese sono iniziate alla Spezia, alla Dialma Ruggero, abbiamo girato due scene coinvolgendo Ivano Marescotti, un famoso attore che ha lavorato con tanti, e molti ragazzi proprio della Dialma, degli Scarti, tra cui abbiamo scelto anche due protagonisti, due dei tre protagonisti, cioè Petra Giomarelli e Rocco Baldassini. Abbiamo fatto dei provini e loro sono risultati migliori e li abbiamo scelti. E a loro il terzo protagonista è Amato D'Auria, che è il protagonista del Posto al Sole. C'è già più o meno una data prevista, entro la quale sarà poi diffuso il film? Sì, il film, io penso che nell'arco del mese di settembre riusciamo a finire il montaggio e poi lo manderemo in selezione a qualche festival. Il primo possibile è Berlino. Da qui a Berlino, cioè da qui a febbraio, cercheremo di fare delle uscite a tappeto nelle sale con cui ho contatti e qui per dire lo faremo uscire senza altro. Abbiamo già prenotazione al nuovo di Silvano Andreini, la sala d'essere più importante di La Spezia. Petra Giomarelli e Rocco Baldassini sono i due attori spezzini che sono stati selezionati per questa importante parte nel film. Da dove arrivate e soprattutto vi aspettavate questo traguardo? Ma beh, diciamo che io un po' ci speravo quando sono andato al Provino, però non mi sono creato aspettative e dopo è venuto tutto da sé, insomma, quindi sono stato disponibile a prestarmi per questo ruolo e è andata bene alla fine. Ecco, la vostra storia inizia proprio al Dialma Ruggero. Sì, io ho cominciato due anni fa a fare teatro al Dialma Ruggero e ho iniziato con dei progetti che facevano lì, organizzati dagli scarti e poi sono stata presa per fare uno spettacolo sempre lì degli scarti e questo mi ha aiutato molto e mi ha fatto conoscere Davide Faggiani che poi mi ha aiutato con il Provino. Vado a riposarmi che sono molto stanco. Ciao ragazzi.